Zip News Zip News.it Le notizie nel modo più veloce Zip News Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie Giallo a Mosca sul piano di pace italiano Il piano di pace italiano per l'Ucraina è un puro flusso di coscienza slegato dalla realtà Così il Vice Presidente del Consiglio di Sicurezza di Mosca, Medveded Sembra preparato non da diplomatici ma da politologi locali che si basano su giornali provinciali e su false notizie ucraine Il Donbass non tornerà mai all'Ucraina Ma il Cremlino smorza, non abbiamo ancora visto il piano dell'Italia Mariupol, 200 corpi sono stati trovati tra le macerie di un rifugio Durante lo smantellamento dei blocchi di un grattacielo in area suburbana Quanto annunciato dal sindaco della città Intanto la polizia di Kiev ha detto che sono più di 10 le fosse comuni con i cadaveri solo nella regione di Kiev Azov stali rappresentanti di diversi paesi, compresi quelli occidentali Saranno invitati ad assistere alle udienze dei processi contro i combattenti ucraini fatti prigionieri dai russi E intanto in Lituania via Polonia è arrivato il primo treno con il grano di Kiev Per l'uscita sicura del navi stranieri dal porto di Mariupol dalle 8 di oggi è stato organizzato un corridoio umanitario lungo 115 miglia, largo 2 miglia in direzione del Mar Nero C'è l'arcivescovo di Bologna, Cardinal Matteo Zuppi e il nuovo presidente della conferenza episcopale italiana Lo ha nominato il Papa, prete di strada dalle periferie con Sant'Egidio E adesso andiamo alla tragedia che è scoppiata in America 15 morti in una sparatoria in una scuola elementare di Uvalda nei pressi di San Antonio in Texas 14 studenti e un insegnante ammazzati Morto anche il killer, sarebbe un diciottenne che frequentava la stessa scuola E chiudiamo con un aggiornamento Covid, sono 29.875 nuovi casi di coronavirus, 95 decessi con un tasso di positività che dal 10,5 risale all'11,1% E tutto grazie per averci seguito, parte tecnica curata da Rosario Perez Zip News Zip News.it Le notizie nel modo più veloce Zip News